Hai vinto, perso o pareggiato? Fammi sapere qua sotto nei commenti. Buongiorno ragazzi, fase decisiva del campionato, sono giornate toste per chi è ancora in lotta per qualcosa ed è così che andiamo a vedere squadra per squadra e partita per partita, chi schierare e chi no in questa penultima giornata di campionato. Vi ricordo che noi ci vedremo qui in live venerdì alle 7 di sera per le ultime dei campi, i vostri dubbi eccetera eccetera vi lascio qua sotto i link in descrizione e in descrizione troverete anche un sacco di video evergreen utili per quanto riguarda il Fanta Calcio Classic, Manta e Solare. Ma ora, bando le ciance, un gran bel like, istruzione campanella, siti nuovi e ora iniziamo. Ciao, sono Federico Viglino e questo è ProFanta Calcio. La 37esima giornata di campionato inizia venerdì sera con il match tra Sampdoria e Sassuolo. Inutile dire che oramai la Samp, condannata da Serie B, ha poco da offrirci per noi e per il nostro Fanta Calcio. Se proprio vogliamo puntare un giocatore sampdoriano, si può fare con Quagliarella oppure con Gabbiedini, visto che il Sassuolo qualcosa in difesa concede sempre. Non andrei su altri giocatori, anche gli stessi esterni tipo Augello saranno in grossa difficoltà affrontando gente come Berardi, perciò lascerei perdere. Dall'altra parte troviamo invece il Sassuolo, punto su Mimmo Berardi, ma si può puntare anche su Pinamonti e su Bairami. Al centro campo si può mettere Maximo Pezzi magari per un 6,5 piuttosto che frattesi per un possibile bonus. In difesa è vero che manca Juan Tresoldi, autore di diversi disastri nelle ultime giornate, comunque diciamo che nessuno consigliato particolarmente. Passiamo ora a Saranitana Udinese. Per quanto riguarda la Saranitana in gran forma sia Candreva che Dia e vado a schierarli. Si può schierare anche Mazzocchi, mancherà infatti dalla sua fascia di competenza Udoge dall'altra parte e perciò potrebbe avere un matchup facilitato. In caso Udinese si può dare nuova fiducia a Beto là davanti, così come si può schierare anche Lovic e Pereira. Per quanto riguarda i difensori, nessuno anche qua che mi fa saltare sulla sedia, se proprio volete do fiducia a Picioli. Spezia Torino può essere un match fondamentale per i padroni di casa per la loro salvezza. Vado a schierare ovviamente Nzola, mentre per quanto riguarda gli altri giocatori nessuno di particolarmente consigliato. Comunque non lo vedo un match facile per i padroni di casa. In casa Toro si può dare fiducia al credente ad avanti, perciò vado a schierare sia Sanabek, Vlasic, ma anche Miranciuk. Sugli esterni vedo meglio Riccardo Rodriguez, può averla meglio lui contro Giasi, mentre lo scontro tra Singo e Rezza potrebbe essere più equilibrato. Dietro scelgo la buona vena di buongiorno. Fiorentina-Roma è uno dei tre big match di giornata, attenzione perché la Viola viene dalla Coppa Italia, mentre per quanto riguarda la Roma sarà il match prima della finale di Europa League. E perciò ragazzi è possibile del turnover da entrambe le parti, per quanto riguarda Roma è praticamente sicuro. Vado perciò a schierare Nico González per quanto riguarda la Viola, scelgo Jack Buonaventura, mentre in difesa do fiducia a Biraghi. Nella Roma, al netto del turnover, vado a schierare Hebram e Shalawi, mentre per quanto riguarda i difensori do fiducia a Smalling. Secondo big match di giornata, quello tra Inter e Atalanta. Anche l'Inter viene dalla Coppa Italia e per questo potremo vedere anche qua del turnover. Per quanto riguarda gli uomini consigliati, schiero ovviamente Dukaku, veramente devastante nell'ultimo periodo, così come scelgo Di Marco e Cialanoglu, magari per un gol da fuori, per un bel più tre dalla distanza. Per quanto riguarda invece i difensori, vi dico a Cervi. In casa Atalanta invece punto su Oilund, anche ristabilito Lukman, che potrebbe partire dall'inizio, merito una chance all'interno delle nostre formazioni. Vado poi a schierare Koop Maynes, tra i difensori scelgo Scaldini. Non in un periodo eccezionale, però dovrebbe averla meglio su Correa. Verona-Empoli, un altro match salvezza per i padroni di casa, molto importante. L'Empoli sarà sicuramente galvanizzato dal 4-1 contro Juventus e perciò venderà carissima la pelle. Per quanto riguarda il Verona, vado a mettere Verdi, uomo di qualità potrebbe far lui la differenza, così come schiero Faraoni, mentre in difesa scelgo Ian. In casa Empoli, schiero sia bomba a Ciccio Caputo, ottimo momento per lui, che Cambiaghi. Qualora veste in rosa Fazzini, non si sa perché, ma comunque la veste in rosa, potreste schierarlo a modo di scommessa. Mentre in difesa scelgo Ismaili e Wey. Un Bologna ancora a caccio dell'ottavo posto in campionato, affronta un Napoli oramai tranquillissimo. Per quanto riguarda la squadra di casa, vado a schierare Arnautovic, così come Ferguson. Sappiamo che mancherà Orsolini per squalifica. Schiero anche Dominguez. E poi, ragazzi, di solito Posch è sempre tra i consigliati, però attenzione perché se la dovrà vedere con un certo Kvarascheglia. Perciò, ecco, valutate bene, al netto che il Napoli potrebbe comunque fare un gran turnover. Per quanto riguarda il Napoli, schiero ovviamente Osman. Si possono schierare sia Politano che Kvarascheglia, poi staremo a vedere se effettivamente partilano loro titolari. Per quanto riguarda la linea di centrocampo, Zielinski, nonostante l'ultimo assist, nell'ultimo periodo comunque non è un periodo esaltante. Insomma, potete valutare, si può mettere come no, dipende anche dalle vostre alternative. Abbiamo poi Robotica, magari per un 6,5, così come Zambanquissà. Tra i difensori, il mio preferito è il capitano di Lorenzo. Passiamo ora a Monza-Lecce. Lo stesso Monza a caccia dell'ottavo posto, mentre Lecce a caccia dei punti salvezza. Insomma, sarà uno scontro, secondo me, aperto, duro, anche se vedo i padroni di casa favoriti. Per quanto riguarda la squadra di casa, vado a schierare Pablo Mari, che potrebbe averla meglio sui vari Colombo o Sisè. Per quanto riguarda i centrocampisti, metto Pessina. Sugli esterni consigliati sia Ciuria che Carlos Augusto, mentre nei tre davanti vedo meglio Mota. Passiamo ora a Lecce, dove non si può prescindere da strefezza consigliato. Mentre mancherà Hulmand, assenza importante questa in casa Lecce, si può comunque schierare Oden a mo' di scommessa. Per quanto riguarda invece i difensori, c'è il gobaschirotto. Lazio cremonese, vede di fronte una Lazio, già aritmeticamente, in Champions League, affrontare una cremonese, invece, matematicamente, retrocessa. Insomma, inutile dirvi che vado a schierare praticamente tutti i giocatori della Lazio, a partire dai tre davanti, ma anche Luisa Alberto e Mirković Savic, ovviamente, sugli scudi, ma in generale, ragazzi, direi che non ci sono dubbi. Se avete un giocatore della Lazio, mettetelo, perché potrebbe essere veramente una esaltazione da parte dei Bianco Celesti, visto che affrontano questa gara a mente libera. Di contro, invece, in casa cremonese, fatico a trovare un giocatore da consigliarvi, sinceramente, anche i soliti Valeri e San Nicola potrebbero invece subire una giornataccia, visto che affronteranno rispettivamente Felipe Anderson e Zaccagni, insomma, lascerei perdere i giocatori della cremonese. Ed eccoci all'ultimo big match di giornata, quello tra Juventus e Milan. Per quanto riguarda la Juve, schiero Danilo, vado a schierare anche Rabiot e davanti sia Vlaovic che Di Maria non sono in un gran momento, ma si possono valutare entrambi per le nostre formazioni. Insomma, sono schierabili, ma non tra i più consigliati. Per quanto riguarda il Milan, schiero Giroud, così come Rafa e Leao. Bem Diaz, se lo avete potete valutarlo per la vostra formazione titolare, si può schierare, così come si può mettere a tonali, magari per un voto alto. Per quanto riguarda i difensori, il mio preferito è il Teo Hernandez, con la sua spinta. Hai dubbi di formazione? Iniziamo a vederli insieme qua sotto nei commenti. Bene ragazzi, avete sentito la mia analisi? Abbiamo visto insieme quali sono i giocatori consigliati e anche alcuni nomi da evitare. Vi ricordo che venerdì alle 7 di sera saremo qua in live per le ultime racampi, i vostri dubbi, eccetera, eccetera. Come vi ricordo che sempre qua sotto in descrizione trovate già il link da diretta, più molti video utili per quanto riguarda il vostro fantacalcio classic, Manta e Soler. Dateci un occhio. Come sempre ragazzi, spolliciamo a più non posso, iscrizione e campanella se siete nuovi sul canale, non volete perdervi nulla a tema fantacalcio. Non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento prossimamente per nuovi contenuti. Nei miei tre fanta rimasti porto a casa due vittorie e una sconfitta e attualmente occupo una prima, una seconda e una terza posizione. Insomma ragazzi, ci stiamo giocando tutto in queste ultime giornate. Per quanto riguarda il fantacalcio play to earn di Soler, niente soglie a questo giro per colpa di Czesny e dei suoi quattro gol incassati, però porto a casa una carta premio nella Cup 220 rara.